Oggi pomeriggio Eleonora Giorgi e Andrea Rizzoli saranno ospiti di Verissimo. Lui è il figlio primogenito dell'attrice, nato dalla relazione con l'editore e produttore Angelo Rizzoli. Di lavoro fa il produttore cinematografico, si è sposato due volte. Il primo matrimonio con Alice Bellagamba è durato appena un anno ed è stata una spalla fondamentale per la madre dopo la scoperta della malattia. Suo fratello minore Paolo Ciavarro, di recente convolato a nozze con Clizia in Corvaia. Eleonora Giorgi, chi è il figlio Andrea Rizzoli? Andrea Rizzoli è il primo dei due figli di Eleonora Giorgi. È nato dal matrimonio con l'editore e imprenditore cinematografico Angelo Rizzoli, da cui l'attrice si è poi separata nel 1984. Seguendo le orme del padre, Andrea ha scelto la strada della produzione cinematografica, dove si è affermato negli anni, rimanendo per molto lontano dai riflettori. È finito al centro dei gossip solo nel 2014, quando ha sposato in prime nozze l'ex ballerina di Amici Alice Bellagamba. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su tv, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp. All'epoca Rizzoli aveva definito Alice la donna della mia vita, ma appena dopo la luna di miele il rapporto tra i due si è improvvisamente incrinato. Così ne parlava la bella gamba in un'intervista a Vanity Fair. La crisi è iniziata da me poco dopo la luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargerà e ci saranno dei figli. Quindi dopo un matrimonio lampo è arrivata una separazione, altrettanto rapida. La ballerina ha ritrovato poi il sorriso dopo un anno appena, grazie a Daniele Bond. Mi sono innamorata di nuovo, ha raccontato a Domenica Live, ho ripreso in mano la mia vita, ho fatto un provino e ho incontrato questo ragazzo che mi faceva da spalla e mi dava le battute. Quanto ad Andrea Rizzoli, per lui ci è voluto un po' più di tempo. Ha ritrovato l'amore solo di recente e il 2 maggio del 2024 si è risposato con Serena Merigioli. La stessa Eleonora Giorgi, presente alle nozze con Paolo Ciavarro e Clizia in Corvaia, ha condiviso alcuni scatti dolcissimi della giornata sul suo profilo Instagram. Il supporto di Andrea alla madre malata. Negli ultimi tempi Andrea Rizzoli è dovuto stare molto vicino alla madre, che si è ammalata di tumore al pancreas. Ospite di Verissimo, insieme a Eleonora e al fratello Paolo, Andrea ha raccontato le difficoltà di questa situazione. Per nostra madre non è stato un periodo facile, ammesso, ma nonostante soffrisse per la malattia, la consapevolezza di avere un male così grave e per la chemioterapia è riuscita sempre a renderlo sopportabile. Insieme abbiamo vissuto momenti privati che ci hanno unito ancora di più. E poi ha anche aggiunto, io non so se in quella situazione sarei stato così forte da mostrare sempre un volto felice, mentre lei con noi si è mostrata sempre così senza avere mai momenti di cedimento. Credo ne abbia avuti, ma con noi non lo ha mai mostrato. Il percorso verso la guarigione